Hey bro, dimmi Matt. Io ho la febbre, sto una merda. Davvero? Ma per venerdì non avevi un video bestiale, ma ci arrivi? Certo bro, che cosa credi? Noi siamo WeTech, niente impossibile. Come faccio a fare questi WeCoffee? Ragazzi, se mi vede Matt con questa roba qui... Oh mio Dio! Ciao a tutti ragazzi, io sono Tony e questo è il WeCoffee. WeCoffee, per chi non lo sapesse, perché ovviamente abbiamo avuto un'ondata di iscritti dall'ultimo video con Manuel Agostini, WeCoffee è la rubrica di WeTech nella quale davanti a un caffè facciamo quattro chiacchiere, parliamo un po' di quello che succede durante la settimana, per cui iniziamo con un bel caffè. Un'altra regola è iniziare sempre il WeCoffee la mattina e bere il primo caffè. Eccezionale. Cosa succederà durante questa settimana? Allora, innanzitutto vi ringrazio tantissimo per il supporto, per aver visto il video con Manuel Agostini, la interview, l'intervista numero 3, vi lascio il link qui sopra magari per chi se la fosse persa. Abbiamo avuto un riscontro molto Manuel e contento, è molto divertente. Ci sarà il secondo episodio questa domenica, per cui non mancate, recuperate il primo se non l'avete visto, è il secondo domenica prossima. Ovviamente sono due, è il secondo episodio di tre in totale. Un altro annuncio fantastico. Vi ricordate il WeSushi? Quella era una sorta di esperimento. C'è una live durante la quale, e siamo stati io e Claudio, abbiamo mangiato un po' di sushi parlando di tecnologia. Questa volta non ci sarà il sushi, anche se il WeSushi tornerà. Ovviamente c'è Shido che mi sta ancora aspettando. Ma lunedì abbiamo una grande live. È una sorta di spacchettamento online, quindi un unboxing, cosa che abbiamo già fatto su questo canale e un buon riscontro da parte vostra. È una sorta di unboxing, però c'è anche un montaggio. Io vi vorrei dire qualcosa, ma non posso dirvelo, perché Houdini non sa ancora nulla. È una sorpresa che sto facendo anche a lui, per cui se volete vedere cosa c'è all'interno di quel grande pacco e cosa dobbiamo farci, non dovete mancare assolutamente lunedì sera. Credo intorno alle 8, 8.30. Sarà l'inizio e poi proseguiremo ad oltranza per un'oretta sicuro, ma probabilmente anche un'oretta e mezza a due. Per quanto riguarda il resto della settimana, ovviamente è sempre molto eccitante qui su WeTech. Avremo un video di Matt che parlerà di accessori MSI davvero fantastici. Sono appena arrivati sul mercato e grazie a MSI siamo riusciti a testarli, per cui Matt farà un video su quegli accessori. Ragazzi, tenetevi forte perché come sapete la qualità qui su WeTech non manca, non manca assolutamente. Houdini invece farà una delle sue magie e ci spiegherà qualcosa concernente il desktop di Windows, ma non voglio spoilerarvi troppo, il video lo troverete online sabato. Nel video di ieri invece si è fatta una gran bella chiacchierata con voi, il grande Sergio, che è mancavato qualche settimana per dei problemi a internet, ma adesso è tornato. Vi lascio il video qui sopra nelle schede, recuperatevelo perché Sergio è piccolo ma ha già tanta esperienza e può davvero insegnarci a tutti quanti qualcosa. Ovviamente poi ci vedremo domenica con la seconda parte della WeInterview di Manuel Agostini. Niente, questa è la settimana di WeTech, io sono Tony, vi saluto, mi raccomando, mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, che la grande settimana qui su WeTech i contenuti non mancano, non mancheranno mai. Noi siamo WeTech, la community tech, con quasi un video al giorno. Ci sono anche degli aggiornamenti riguardo quella collaborazione che vi avevo accennato la settimana scorsa, è andato tutto in porto, è già settimana prossima su Instagram, quindi seguireci su Instagram e seguireci anche sul canale Telegram saprete già qualcosa. Qui, grande cose qui su WeTech. Io sono Tony e noi ci vediamo molto presto. Ciao ragazzi, il caffè è finito, purtroppo. No niente, siamo online su WeTech, su WeCoffee, e sto spiegando ai nostri iscritti che ci sarà lunedì una sorpresa e tu non sai nulla. Cosa ne pensi al riguardo? Sentiamo questa risposta. Penso che è vero, infatti non so niente di quello che mi aspetta, però a fine svolta devo commentare, dimmi tu, perché io non so quello che mi aspetta, come mi sono. Non sa niente, è vero. Lunedì, non mancate, su WeTech. Ciao. Grazie.